sono dei dati in divenire e quindi occorre sempre molta prudenza anche nel lanciarsi poi in un'interpretazione futura. Però noi dobbiamo, questo ce lo chiede la popolazione, ce lo chiede la realtà delle cose, basarci su quello che vediamo realmente e iniziare a dare una risposta concreta su quello che già c'è e poi sulla base della velocità dei dati o di quello che si sviluppa, pensare dal caso migliore al caso peggiore. I dati, ed è il motivo per cui poi ho dovuto mettere un po' assieme tutti i dati e tutto quello che sta succedendo, i dati mostrano qualcosa di rassicurante per quello che riguarda la popolazione generale e poi mostrano che c'è un specifico problema, che però è un problema interno di politica sanitaria, di gestione sanitaria che a mio avviso, poi vedremo se i dati che abbiamo vanno in questa direzione, a mio avviso non devono tradursi in un allarmare la popolazione. Come dicevo è importante partire da delle definizioni chiare, nel senso che uno specialista è stato formato a intendere quello che viene detto in una certa direzione, è necessario che chi non è specialista usi lo stesso tipo di linguaggio o comprenda quello che viene detto, altrimenti se io dico che una persona è infetta, e adesso entriamo poi in medias res, lei può intendere una certa maniera e io lo intendo in un'altra. Allora diamo proprio due o tre definizioni chiave, l'infezione è definita come la presenza di un germe, un virus, un battere, un fungo, in questo caso ci concentriamo sul virus, la presenza di un virus all'interno dell'organismo, quindi io posso essere infetto, ma questo non si traduce in malattia, ci sono dei virus che avranno una certa caratteristica per cui quando sono infetto è uguale, sono anche malato e quindi è difficile che ci siano delle persone paucisintomatiche o asintomatiche, ci sono dei virus invece che quando sono infetti, quando infettano una persona non si traducono sempre in malattia, quindi la prima cosa da capire è che quando arrivano anche dei numeri dicendo ci sono 1000, 2000, 10.000 persone infette, questo può in generale non voler dire che sono persone malate, quindi infezione è presenza del virus nella persona, malattia è un'altra cosa e poi questo lo capiamo già tutti, ci sono gradi di malattia differenti, così come quando dico che la valvola mitralica non funziona, ma può essere di grado lieve, moderato e grave e quindi poi farò delle terapie differenti, avere malattia dovuta a un certo virus, in questo caso il coronavirus o il covid-19, non vuol dire che vado a finire in terapia intensiva o che sto a casa, quindi la scelta poi terapeutica dipende dal grado di malattia che è in misura variabile. Ecco, dottore, faccio molto importante questa distinzione fra infezione e malattia conclamata, perché giornalisticamente quando la Merkel dice 60-70% dei tedeschi sarà infetto, il lettore medio pensa che sarà malato, non pensa che avrà un virus di fatto inerte che non si tradurrà in malattia, ho interpretato bene? È corretto, io potrei dire che del virus della rosolia il 98% delle persone nel mondo sono infette e questo è vero, il virus dell'herpes nella popolazione adulta è fra il 90-95% di infezione, ma questo non si traduce in malattia. Bisogna dire che quando la signora Merkel ha espresso questi dati, subito dopo penso sia intervenuto il ministro, il padre della sanità, che poi ha spiegato che la maggior parte delle persone non svilupperanno malattia, quindi hanno dato un dato corretto, ma ha costruito nella sua presentazione in maniera ambigua. Ed è proprio questo che bisogna evitare, l'ambiguità, cioè i termini che vengono usati dagli specialisti sono sempre univoci, quando si dice il medico parla e non si capisce, questo è un errore, ma il termine univoco serve proprio per io comunico e lei comprende la stessa cosa. Quando si parla con del personale non addetto ai lavori, la prima cosa da fare è proprio quella di spiegare che cosa si intende, altrimenti si può generare un'incomprensione oppure si può generare il panico e questa cosa può essere accidentale oppure voluta, però questo è una speculazione che poi va al di là del motivo di questa chiacchierata, il dato è che c'è una mal comprensione di quello che viene detto. Un altro punto chiave è capire cosa ha di diverso da un punto di vista, diciamo, strettamente sintomatologico questa nuova patologia da un'influenza più abituale, più ordinaria. Sì, allora innanzitutto anche qui e poi entriamo nello specifico della domanda c'è sempre molta confusione con la parola influenza, ho fatto un'influenza, ho l'influenza intestinale, l'influenza in termine tecnico è una malattia provocata da un virus specifico, che diciamo virus dell'influenza, adesso non gli diamo un nome, e che provoca una sintomatologia poi di grado variabile e che ha una sua morbosità, cioè può provocare un certo tipo di malattia anche abbastanza grave a livello di sintomi respiratori e anche una sua mortalità intrinseca. Insieme al virus dell'influenza però, che di solito si veicola con la stagione fredda, perché parte dalle vie aeree e quindi col freddo è molto più facile che i meccanismi di difesa delle vie aeree siano più bassi, girano insieme anche altri virus che si chiamano in termine lato pare-influenzali, cioè che generano una sintomatologia simile a quella dell'influenza, generalmente e statisticamente più blanda, sottolineo la parola statisticamente, quindi io non posso dire se ho avuto solo un raffreddore che non è influenza, perché clinicamente sono sovrapponibili, la differenza è che il virus dell'influenza è più aggressivo in media rispetto ai virus delle pare-influenzali, ma anche questi virus, globalmente e generalmente, dal di là appunto del Covid-19, possono anche portare a delle situazioni severe. Faccio un esempio, se guardo il coronavirus, che di per sé è un virus che conosciamo da tanti anni, che gira tutti gli anni insieme all'influenza, nel mio reparto di terapia intensiva l'anno scorso sicuramente abbiamo avuto 4 casi di coronavirus, tenendo conto che noi non li misuriamo su tutti i virus pare-influenzali, perché ha semplicemente uno scopo statistico e non terapeutico. Veniamo alla domanda, in che cosa si differenzia? Di per sé come sintomatologia non si differenzia in niente, nel senso che così come l'influenza può essere asintomatica, il virus dell'influenza può provocare malattia asintomatica, fino ad arrivare a delle situazioni di cura intense, fino a provocare la morte, teniamo conto che in tutti i paesi del mondo la mortalità per influenza è estremamente elevata e può colpire tutte le fasce d'età e stiamo parlando però di influenza, cioè il virus dell'influenza del tipo A soprattutto, lo spettro sintomatologico è esattamente sovrapponibile ai virus pare-influenzali, compreso il coronavirus. Quello che cambia è, se noi dovessimo mettere in una casellina niente paucisintomatico, sintomatico lieve, moderato grave, morte, la statistica di sintomatologia sarebbe un po' diversa, cioè l'influenza si sposta di più sulla sintomatologia verso il grave e la morte, anche se la maggior parte delle persone fanno delle forme moderate, mentre invece il coronavirus e gli altri virus pare-influenzali hanno anche occasionalmente delle situazioni gravi, mortali, ma generalmente la curva si distribuisce verso la paucisintomaticità o la sintomatocità lieve. Covid? Dottore, mi scuso se l'interrompo, è molto chiaro questo discorso, c'è una ampia sovrapponibilità, ma in qualche modo si enfatizza molto la presenza di sindromi simili o addirittura identiche alla polmonite, cioè in definitiva, questo vuol dire, parlo da non addetto ai lavori, quindi da persona che legge i giornali, che questo Covid-19 o in generale l'influenza può generare o si traduce o coincide con una sindrome simile alla polmonite, cioè qual è il rapporto tra polmonite, influenza e coronavirus? La polmonite è una definizione anatomica o istologica, cioè il tessuto polmonare è infiammato e questo può essere generato in generale, quindi al di fuori di questo contesto da tante cause, i batteri generalmente provocano la polmonite, lo streptococco, lo pneumococco in particolare, ci sono dei virus, adesso poi entriamo nello specifico, ci sono delle polmonite da inalazione, se inalo dei gas molto pericolosi posso avere un danno polmonare, ma la polmonite è una definizione istopatologica, cioè il tessuto polmonare è infiammato, ITE sta proprio per infiammazione. Se vengo all'influenza, cioè il virus dell'influenza infetta le mucose nasali generalmente e quindi quando dà sintomi può dare quello che si chiama raffreddore, che però è una definizione clinica, non c'è il virus del raffreddore, può essere l'influenza o la parainfluenza che infiammando il naso provoca il raffreddore, posso avere poi delle sintomi che si chiamano discendenti, cioè dove l'infezione va via via sempre più giù, quindi inizio ad avere la tosse, inizio ad avere il cataro, eccetera, posso avere delle tracheiti, delle bronchiti, fino ad arrivare alle polmonite. L'influenza può provocare polmonite, cioè può provocare un danno polmonare con un'infiammazione per cui diventa più difficile far passare l'ossigeno. Covid, i coronavirus e Covid nello specifico possono fare questo, però è necessario vedere in quale misura. I dati che abbiamo sono forti, cioè non parliamo di due persone, di 30 persone, ma siamo attorno alle 100 mila persone, di cui attorno al 70 mila, 80 mila sono state analizzate con degli articoli peer reviewed, cioè i dati sono stati sottoposti all'analisi seria. Sappiamo che il 50% delle infezioni da Covid sono asintomatiche, quindi dire che abbiamo mille persone infette, verosimilmente infette con il virus sono il doppio. Del 50% però che conosciamo, e lo conosciamo perché è stato misurato la presenza di Covid, 81% è paucisintomatico, cioè può avere il raffreddore, può avere la tosse, può avere un po' di cataro, quindi 80% di un 50%, vuol dire che l'affetta, siamo attorno al 90% di persone che non hanno sintomi o che hanno dei sintomi blandi e che sono indifferenziabili dal punto di vista clinico da una normale influenza o dagli altri virus che girano a braccetto con coronavirus, con il virus dell'influenza, eccetera. Per cui se lei viene e dice ho la tosse, ho un po' serio e non lo so, perché i sintomi sono esattamente identici. Bisogna anche dire che visto che poi c'è una restituzione ad integrum di questi casi, cioè tutti quelli che non si presentano in ospedale, non ha neanche senso se non per questioni epidemiologiche fare un tampone che costa e che poi in questa situazione sociale mette solamente ansia, perché tanto se ha tosse cataro e ha il covid, poi guarisce, se ha l'influenza, poi guarisce, se ha il virus della pari influenza di tipo 1, guarisce lo stesso, quindi la terapia è sintomatica e non si va a cercare se non appunto in grandi strutture come gli ospedali universitari, giusto per avere un dato epidemiologico di cosa succede in giro. Quindi 81%, poi invece c'è una quota che è il 14%, ma non totale, 14% di quel 50%, quindi è il 7% totale, che ha bisogno di ospedale. E poi c'è un 5% di questo 50%, quindi globalmente è il 2,5%, che invece ha bisogno di terapia intensiva. Chi va in terapia intensiva? Perché ovviamente iniziamo a dire 2% degli infettati ha bisogno di terapia intensiva, quindi non è l'ecatombe dove metà della popolazione verrà sterminata e non troveremo più il nostro simile se non facendo chilometri. Questo 2% non si stabilisce su tutte le fasce d'età. I dati sono di Wuhan, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine e poi i dati che sono in divenire sono l'Istituto Superiore di Sanità che ci aggiorna quasi quotidianamente su questi dati e poi sono anche un'iniziale esperienza clinica che iniziamo a vedere anche qua in Svizzera. Quindi queste persone che vanno in terapia intensiva non si distribuiscono in maniera uguale. Sotto i 50 anni non muore nessuno. I dati su Wuhan, che abbiamo circa 70.000 dati, mostrano che ci sono stati 7 casi, 7 casi su 90.000, sono 0,00 al di sotto dei 50 anni e verosimilmente avevano già delle copatologie. Faccio un esempio, proprio ieri a Ginevra è morta una persona di 30 anni, sospetta Covid, ma aveva un tumore metastatico avanzato, quindi è una situazione triste ovviamente, ma non una persona in perfetta forma. Le persone oncologiche hanno delle difese immunitarie già abbattute e poi anche con la chimioterapia e con le terapie che vengono fatte sono già debilitate. Mi scusa, interrompo perché forse è interessante a questo proposito quel dato arrivato il 13 marzo di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Italiano, che ha detto che sono morte solo due persone che non presentavano altre patologie. È un po' questo il tema. Quando ci dicono morti per coronavirus, in realtà dovremmo dire morti con il coronavirus, non morti per il coronavirus. In sostanza, come lei ha detto, i morti sono persone che hanno spesso gravissime altre patologie, tanto che lo stesso Brusaferro dice che solo due persone sembrerebbero essere morte esclusivamente per il coronavirus, quindi una percentuale piccolissima, insignificante in un certo senso. Certo, è un po' questo il dato, cioè sopra a una certa età si inizia a morire e poi quello che si evince è che la mortalità, l'aspettanza media di vita si sovrappone all'aspettanza media in cui queste persone muoiono, quindi si perde circa sei mesi di vita per gli uomini e un anno o quattordici mesi per le donne, quindi muoiono quelle persone che già biologicamente, probabilmente perché hanno già altre malattie, muoiono, ma se guardiamo le distribuzioni delle patologie, quasi i due terzi presenta tre o più malattie, generalmente soprattutto a livello cardiaco, questo è un po' un tecnicismo legato al fatto che il virus può anche danneggiare il cuore in queste persone, non solo il polmone ma quindi anche il cuore, ma sono pochissime le persone che, infatti appunto due in questo momento, che non hanno nessuna malattia diagnosticata, teniamo conto che da quello che so io non sono dati autoptici, ma sono dei dati al momento epidemiologici, cioè lo statistico, l'epidemiologo prende la lettera di uscita, vede che non ci sono altre malattie, quindi da malattie zero. Cioè non c'è stato un esame anatomopatologico in sostanza? Non ancora, tant'è che spesso, non sempre, ma spesso i morti poi hanno un asterisco scritto dati ancora da confermare da ISS, cioè manca ancora la conferma anatomopatologica. È verosimile che sia morti con il coronavirus, però che non ci siano patologie, potrebbe essere che non ci siano patologie, però non si può ancora dire, manca la conferma anatomopatologica finale. Ecco, dottore, a parte che fra le patologie potrebbero diventare patologie psichiatriche, per esempio gravissima depressione o altre sindrome che potrebbero avere un effetto deprimente sul sistema immunitario, in un certo senso. Le vorrei chiedere un'altra cosa. A livello comunicativo, qui in Italia, lei conosce bene la situazione svizzera, ma penso segua anche quella italiana, si è giocato quasi tutto l'allarmismo, io non so se in termini giustificati o no, sulla terapia intensiva, la sua saturazione, il suo essere prossimo al crollo. Lei che è uno specialista di terapia intensiva, ci può aiutare a capire questa questione dell'allarmismo sulla carenza e sull'esplosione dei reparti? Dunque, la domanda è veramente molto interessante e quello che io adesso cercherò di spiegare guardando quelli che sono i dati, non vuole assolutamente sminuire il lavoro che fanno i miei colleghi, alcuni dei quali conosco bene in Italia e con cui ho parlato, quindi so che il vissuto soggettivo è molto forte, adesso questo poi andiamo a sviscerarlo bene e non sto dicendo né voglio suggerire che da parte dei medici in generale, ecco poi non specifico questo ognuno nella propria coscienza poi dovrà valutarsi, ma in generale i miei colleghi hanno fatto un grandissimo lavoro. Facciamo un esempio e poi entriamo nei dati. Lo Stato italiano costruisce un muretto, un muretto alto così e poi arriva alle onde, queste onde generalmente sono fermate da questo muretto, le onde a volte sono un po' più alte, ma in fondo questo muretto è in grado ancora di fermarli. Ora arriva un'onda un po' più alta, bisogna vedere se oggettivamente è alta, è sicuramente più alta del muretto, muretto che è stato costruito male e viene dato colpa all'onda. Entro nel merito, quando sento il collega di Lodi che mi dice io improvvisamente mi trovo 20 persone in una notte che devo intubare e ho sette posti, capisco la sofferenza, la sofferenza proprio tecnica dove appoggio queste persone, però 20 pazienti, cioè l'onda oggettivamente sta aumentando, ma oggettivamente è bassa e questo oggettivo dobbiamo per forza paragonarlo e quindi riferirci ad altre malattie, quindi che in questo momento, mi sembra i dati di ieri o l'altro ieri, siano morte mille persone è una cosa ovviamente triste e che dispiace, però c'è un silenzio allo stesso tempo sul fatto che di influenza ogni anno muorono fra le 8.000 e 10.000 persone, che è una malattia che si trasmette in maniera del tutto simile, che si muore perché si arriva in terapia intensiva e ci sono delle sindrome, delle polmonite che sono del tutto analoghe, con qualche differenza tecnica, ma proprio da specialisti, ma di là si sta in silenzio, di qui si sta urlando alla catastrofe. Quello che succede è che è arrivata un'onda un po' più alta e chi ha costruito il muro basso sta dando colpa all'onda, quindi adesso fuori di metafora, il sistema italiano porta come numero di letti globali circa 3 letti per 1.000 abitanti, la Germania 8 letti per 1.000 abitanti, la Svizzera siamo attorno ai 6 letti e mezzo per 1.000 abitanti, quindi abbiamo un muretto nell'esempio molto basso, 3 letti per 1.000 abitanti, sapendo che poi in proporzione le cure intense, la terapia intensiva ha ovviamente dei letti ancora ridotti. Sentire 7 posti letto a lodi è qualcosa che fa male perché capisco il collega che dice io lavoro costantemente con dei valori, con dei numeri che sono bassi e quindi basta che aumenti un po' anche soggettivamente, non è così alto, che io sono in sofferenza. Però viene cavalcata la cosa perché sembra che questo sia un problema appunto che sta colpendo bambini, giovani, un'ecatombe e non c'è posto e stanno morendo tutti. Questo non è vero e c'è un dato che mi ha sorpreso molto che è uscito ieri sull'Intensive Care Medicine, che è uno dei giornali più prestigiosi della terapia intensiva, che analizza proprio questo fatto, dice abbiamo visto a Wuhan una mortalità fino all'8%, in Cina fuori Wuhan 0,7%, in Italia questo dato che poi va interpretato che dal 3% sta salendo al 6% e sembra che il fattore determinante non sia l'onda, cioè non sia la malattia che comunque ha una sua gravità, questo non è da ignorare, ma sia la preparazione tecnica del sistema sanitario in loco atta a prendere l'onda più ampia, cioè ad avere un numero di posti adeguato per quello che sta arrivando, che però appunto oggettivamente rispetto a quello che succede di solito non è diverso. Come faccio a dire che oggettivamente non è diverso dal solito? Basta guardare la distribuzione della cosiddetta influenza o sindrome parinfluenzale di tutti gli anni. Se noi guardiamo e prendiamo i dati del SIS, o prendiamo anche i dati del collega di Tokyo che era in prima linea e che ha riferito all'ESICM 5 giorni fa, 6 giorni fa, sulla base proprio dell'epidemiologia, generalmente l'influenza ha un primo picco fra novembre e dicembre, poi si riduce verso fine dicembre, ma forse questa è una speculazione, il fatto che con le vacanze il numero di tamponi di misure è un po' ridotto e poi subito dopo il periodo di Natale, quindi anche un aumento dei contatti, a gennaio e febbraio l'influenza o le sindrome parinfluenzali esplodono. Quest'anno, il dato è giapponese, ma è riprodotto anche dal CDC di Atlanta, non c'è con l'influenza, quindi misurando l'influenza, il picco d'esplosione. È una, diciamo, un parlà comune fra di noi che le altre malattie di questo periodo sono un po' ridotte. Potrebbe essere, e questo è una speculazione perché non c'è ancora una dimostrazione, però è molto suggestivo il fatto che se io prima avevo un primo picco e poi aumentava tanto e lo chiamavo influenza perché, come l'ho detto prima, è un'analisi statistica, non autoptica, quindi i pazienti che arrivano a un certo livello, statisticamente vado a misurare cosa succede, ma quest'anno invece riesco a misurare Covid o un altro virus, riesco a dargli un nome e a misurarlo. Quello che posso pensare è che ho scorporato queste due curve in due elementi. L'influenza che non ha più il grande picco, quindi si è ridotta quantitativamente il numero di persone che accedevano alle curve intense, alla terapia intensiva per l'influenza e a certo punto però arrivano Covid. Quindi, bene, è un problema che è arrivato a quest'onda, il problema non è l'onda, il problema è il muretto, però attenzione perché altre malattie, ad esempio l'influenza che ogni anno arriva e provoca delle situazioni analoghe, quest'anno non ha quel picco, non si registra quel picco che si è registrato da altri anni. Questo è chiarissimo, in sostanza, se ho capito bene, potrebbe essere accaduto che scorporando i dati di Covid e enfatizzandoli in modo clamoroso giornalisticamente, di fatto si è creato come dire il problema, perché se avessimo lasciato i dati incorporati senza enfatizzarli avremmo avuto il normale numero di morti che si ha ogni anno per l'influenza. Ma le chiedo un'altra osservazione. Io penso di aver capito questo, che la cosa essenziale è che la letalità del virus, cioè il numero dei morti in percentuale, quel famoso 2-3%, forse 6%, viene alzato o abbassato in proporzione alla scelta che faccio di rispetto a che cosa misurare i morti. Se li misuro rispetto a chi ha fatto il tampone è una cosa, se li misuro rispetto a chi è ricoverato in terapia intensiva è un'altra, se li misuro rispetto ai portatori asintomatici è un'altra ancora. La domanda è questa, è possibile immaginare che se misurassimo i morti con coronavirus, rispetto ai portatori totali inclusi gli asintomatici avremmo una percentuale di mortalità, di letalità simile a quella delle normali sintomi influenzali? È molto verosimile, perché cito ad esempio le pubblicazioni recenti dell'ESICM, che è la Società Europea di Medicina Intensiva, la mortalità, c'è una mortalità globale e poi i dati, visto che sono parecchi, possiamo stratificare in base anche alla severità di malattia. Allora, se io vedo che quando il paziente è in terapia intensiva ha una mortalità più alta, ma vuol dire percentuale di morte su quelli che si presentano in terapia intensiva, però quando vado a vedere la mortalità globalmente rispetto ai pazienti che entrano in ospedale e si riduce parecchio, in terapia intensiva rispetto a chi già arriva grave, New England parla di 8,4%, ma chi è fuori dalla terapia intensiva, quindi quei pazienti che arrivano in ospedale e non hanno bisogno di terapia intensiva, la mortalità è dello 0,1% e globalmente, visto che in terapia intensiva non va alla metà della popolazione, neanche un quarto, ma attorno al 2,5%, è possibile pensare che la mortalità globale sia estremamente bassa. Bisogna fare attenzione ai dati come ha suggerito lei, perché se io faccio i tamponi in maniera indiscriminata, che non ha senso anche perché aumenta semplicemente il livello di psicosi e comunque anche a livello economico fa eseguire dei test che poi non portano a nessuna conseguenza, io so che ho il Covid, ma ho un po' di tosse, ma non cambia niente, quindi non faccio il test, se riduco il numero di tamponi che sto facendo per questioni anche economiche e anche di approvvigionamento e da tutta la popolazione la faccio solo ai pazienti che vengono ospedalizzati e poi solo ai pazienti che entrano in terapia intensiva, è chiaro che il numero di morti che misuro e che enfatizzo su questo totale che si riduce aumenta progressivamente, quindi bisogna sempre stare attenti, secondo me qua un messaggio chiave è fate attenzione alle cifre, perché le cifre devono essere lette dagli esperti, noi facciamo regolarmente quelli che si chiamano journal club, cioè formiamo e ci formiamo costantemente una o due volte a settimana per imparare come si leggono i dati statistici, perché altrimenti io leggo un articolo e corro subito ai risultati, ma è molto importante il metodo, se io le dico che da Milano a Roma ci metto tre ore, uno può dire bello, poi scopri che è andato a 300 all'ora a contromano con gli occhi bendati, non è un dato riproducibile, quindi è molto importante non il risultato.